Oggi i pronto soccorso di tutta Italia per il ritorno delle infezioni da covid e il raggiungimento del picco influenzale soffrono il fenomeno del sovraffollamento. Significa che il numero di accessi in pronto soccorso supera di gran lunga la disponibilità di risorse logistiche e di personale. Per tutelare la salute dei pazienti e il lavoro degli operatori ed evitare gli accessi impropri al pronto soccorso è necessaria la collaborazione responsabile dei cittadini. In questa stagione la maggior parte delle febbre è da debitare a infezioni virali che non richiedono un trattamento antibiotico ma solo cautela e riposo. Il pronto soccorso non deve e non può in alcun modo sostituire il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta che sono degli ottimi professionisti in grado di fornire cure altrettanto adeguate ed efficaci ovviamente in condizioni di non urgenza o emergenza e che hanno il grandissimo vantaggio di conoscere il paziente meglio di qualunque altro medico. Pertanto il consiglio è di recarsi al pronto soccorso solo per le condizioni di particolare gravità. Un corretto utilizzo del pronto soccorso aiuta a salvare delle vite. Farlo funzionare correttamente dipende da tutti, dipende anche da te. Ben trovati amici, eccoci l'appuntamento con l'informazione di Teleibrea sul canale 89. E' una settimana interessante, ci sono molte cose da dire, ci sono anche degli appuntamenti politici, uno è stato sabato, ne parleremo, uno sarà domenica prossima, quello della democrazia cristiana. Però è arrivata anche in provincia di Ragusa la protesta degli agricoltori. noi li abbiamo visti questi agricoltori un po' in tutta la Sicilia, in alcune strade, che so, sulla Palermo, in zona di Lentini, da parecchie parti. Però oggi la protesta è arrivata anche a Ragusa esattamente, c'è stata una riunione, un incontro fra gli agricoltori e gli allevatori al Foro Boario, sulla strada che va da Ragusa a Chiaramonte Gulfi. Ma l'incontro è fissato anche per domani e quindi voi sentirete, c'è anche un appello agli agricoltori e agli allevatori di partecipare a questo appuntamento, a questa manifestazione importante che è quella appunto di far sapere in giro quello che sta accadendo. Un po' lo avete sentito da tutte le parti, quale sono le motivazioni, partendo dalle regole europee, pensate a questa storia dei grilli e delle locuste, ne parleremo certamente, la grande distribuzione, le regole, i contributi che non vengono dati, eppure mai come in questi anni l'Europa dà aiuti al mondo dell'agricoltura. Lì bisogna capire che cosa accade, dove non siamo bravi e cosa dovremmo fare di più. Allora sentiamo prima di tutto un allevatore e un responsabile, diciamo sempre degli allevatori che ci dicono quali sono le difficoltà e poi c'è l'appello a partecipare. Sentiamo. I problemi sono molteplici, rincaro carburanti, elevata burocrazia, regole europee stringenti, regole assurde sul benessere animale, regole assurde sull'inquinamento, i contributi europei che arrivano in ritardo, i bandi che ancora sono aperti dal 2014 e ancora non sono stati chiusi, quando dovrebbero durare tre anni. La burocrazia che fa perdere tanto tempo e le aziende non hanno neanche il tempo di costruire, che possibilmente non ce la fanno in tempo ad avere quei guadagni e poi chiudono. Ho un allevamento di bovini, produco latte e carne. La grande distribuzione ci sta soffocando, prediligono l'importazione di grani esteri, l'importazione di latte dall'estero, caesificare latte che non è italiano per ovvi risparmi, ma quando noi abbiamo qui la qualità, elevatissima qualità, perché il nostro latte viene venduto per alta qualità, perché lo è, perché lo è. E io a 20 anni mi impegno per la mia azienda, mi impegno per il mio territorio e tutti i giorni mi impegno, alzandomi presto la mattina. E questo fa male, fa male a me come tanti giovani, come tanti 30, 40 anni che si avviano per una famiglia quando non abbiamo, abbiamo paura, abbiamo tanta paura. Bisogna appellarci intanto a tutti i colleghi per partecipare al presidio, per cercare di rivendicare, chiamiamolo i nostri diritti, ma ci sono delle cose sia a livello europeo che vanno sistemate, perché così facendo siamo destinati alla chiusura. e quindi ci appelliamo a tutti i social, a tutte le televisioni per invitare le persone a partecipare. Esista qui in attesa di, già ci sono stati degli approcci per vedere come potesse sistemare alcune cose che già sono abbastanza carenti nei nostri confronti. Avete sentito dunque, la cosa più grave, più difficile da riuscire a prendere, a digerire è che purtroppo, anzi per fortuna, ma poi diventa purtroppo, ci sono tantissimi giovani. E uno di questi rappresentanti parlava col sindaco e ha detto al sindaco, sindaco guarda, ci sono tanti giovani, dobbiamo dare un futuro a questi giovani, qualcosa dobbiamo farla. E davvero fa pensare, perché con le nostre difficoltà a trovare lavoro, grazie a Dio il settore è un settore che potrebbe dare molto, ma ci vuole qualche cosa. Allora, ho citato il sindaco che era naturalmente presente, che ha sposato questa causa e ha lanciato un'idea, che è l'idea quella di mettersi tutti insieme e fare un progetto per cercare di capire cosa si può chiedere alle autorità competenti. Vediamo. Abbiamo deciso di aprire un tavolo, una trattativa che coinvolga ovviamente non soltanto noi che siamo presenti qui, non soltanto gli allevatori, i rappresentanti del comparto agricolo, ma proprio tutti i rappresentanti regionali che ricoprono ruoli istituzionali, per cui proveremo a invitare, oltre che i colleghi sindaci, anche tutta la deputazione regionale e nazionale e tutti i rappresentanti dell'associazione di categoria che sono direttamente coinvolti per stilare un documento con dei punti precisi e su questi punti sollecitare un immediato intervento della Regione, in persona del suo Presidente in particolare, in persona anche del Vice Presidente Assessore all'Agricoltura, l'On. San Martino. Questi sono i punti che abbiamo definito oggi, dovremo cominciare a muoverci già immediatamente. Ma la protesta è regionale? La protesta è regionale, nazionale, addirittura europea, sappiamo che sono blocchi stradali, è chiaro che ogni regione vive il problema secondo le caratteristiche e le peculiarità del territorio. Noi abbiamo caratteristiche specifiche, sappiamo che il mondo della zootecnia soprattutto da noi è molto diffuso e quindi magari sui problemi della zootecnia, ma anche su quelli dell'intero comparto agricolo avanzeremo le proposte e le istanze che arrivano proprio dal mondo dei produttori. E quindi avete capito, c'è una grande disponibilità dell'amministrazione comunale, ma ci mancherebbe altro perché buona parte della nostra economia ha questa base del mondo dell'agricoltura. Gli allevatori, come diceva quel giovane allevatore prima, noi sappiamo farlo, i nostri prodotti sono i migliori ed è vero. E poi il problema della grande distribuzione, guardate che non è uno scherzo, sapete come agisce oggi la grande distribuzione? Dire ricatto è chiaramente una parola troppo alta, troppo pesante e quindi la mettiamo da parte. Però la verità è che è forte dei numeri che può offrire, la grande distribuzione va a chiudere sui costi, abbassa al minimo i prezzi che deve pagare e poi purtroppo guadagna di più perché abbassa a quanto compra e poi vende però allo stesso modo. Questa non è una bella cosa. La grande distribuzione ha una responsabilità, soprattutto quella locale, che sa benissimo chi sono i nostri agricoltori, i nostri allevatori che hanno dato la forza per andare avanti, per crescere e quindi la grande distribuzione locale ne abbiamo un paio buone, qua dovrebbe guardare in un altro modo ai produttori. E chiudiamo questa pagina con l'intervento dei due deputati, li vedete Di Pasquale e Campo che erano lì presenti e che hanno detto noi questa cosa ce la sposiamo, però non c'è dubbio è un'iniziativa di tutti e vediamo dove arriviamo. Io credo che essendo un problema molto grande, molto regionale, c'è tanto tanto da fare. Sentiamo Di Pasquale e Campo. Un comparto che purtroppo da troppo tempo è in crisi e in abbandono dovuto a tutta una serie di difficoltà generale, la politica economica europea, ma io dico anche la politica economica nazionale e regionale, perché io quello che mi farebbe piacere vedere negli obiettivi, tra gli obiettivi del governo nazionale e nell'interlocuzione con l'Europa, mettere a centro anche la crisi economica, la crisi del comparto agricolo in Europa, perché questo è un tema che va affrontato e così è la stessa cosa anche a livello regionale, ma è così seria questa rivendicazione che non mi va neanche di fare più di tanto polemica politica, anzi non ne voglio fare completamente. Ritengo che serva unità, ritengo che il Presidente della Regione si debba impadronire di questa vertenza. Ci sono cose che può fare la Sicilia, la Regione Siciliana le deve fare, ci sono cose che deve fare il governo nazionale, il governo europeo e sicuramente anche per fare queste cose serve un ruolo fondamentale del Presidente della Regione, perché il primo interlocutore per il comparto agricolo siciliano che non rappresenta una marginalità, ma che rappresenta un valore importante dal punto di vista economico è il Presidente della Regione, quindi io penso che insieme al Sindaco, insieme ai sindaci, gli altri deputati, perché ritorno a dire è un motivo di condivisione, serva una battaglia comune per fare svegliare tutto. Sì, c'è un momento di mobilitazione in tutta la Sicilia, lo abbiamo visto in tantissime città, anche Ragusa partecipa perché la situazione sta andando chiaramente a peggiorare, serve un confronto diretto con la Regione, con lo Stato, con la Comunità europea, per questo partiamo da Ragusa con un tavolo con cui appunto confrontarci, sperando insomma che il Presidente della Regione sia presente perché lo inviteremo, per creare appunto un documento dove ci siano delle proposte per tutelare questo comparto che ad oggi è il comparto principale della nostra isola, quindi è quello che dovrebbe rispettando tutta la filiera essere maggiormente tutelato rispetto a tutti gli altri. Vediamo, vediamo come va a finire, l'impegno c'è, c'è tutta la Sicilia che non può dimenticare i propri produttori, i propri allevatori, non è possibile perché noi ci vantiamo in tutto il mondo di avere queste eccellenze favolose dal latte ai formaggi, alle zucchine, alle carote, tutte queste cose qua e poi però quando hanno difficoltà li lasciamo morire, non è possibile. E' la politica che deve intervenire, a proposito di politica, come vi dicevo domenica prossima ci sarà l'appuntamento per la Costituzione, per il congresso provinciale della democrazia cristiana, in pratica, ecco vedete si fa a Borgo Don Cresciotte, in pratica come ho detto in altre occasioni è un punto fermo, è un modo per contarsi, inizia una storia e vediamo chi c'è, ecco questa è una cosa molto seria perché poi serve anche a capire quanta gente sale sul carro dei vincitori ma non si mette la tessera, perché è facile dire ah però io non voglio, non c'è niente però ti fai mettere nei posti di comando, ti fai dare gli incarichi di consulente, queste cose succedono. Ma quindi ne parleremo perché domenica andremo anche a seguire. Invece sabato c'è stato l'incontro del congresso provinciale di Forza Italia. Forza Italia in questo momento è un po' diciamo in fase di recupero, deve ritrovare la propria identità dopo la scomparsa di Berlusconi, non ha ancora capito bene cosa si deve fare e quindi c'è stato questo incontro a cui sono stati invitati, come sempre accade, deputati, avete visto Salemi e assenza di Fratelli d'Italia. Insomma non c'era una gran partecipazione di pubblico, anche perché dobbiamo dire che questi due, tre anni forse anche di più sono passati e hanno cancellato molte certezze di una volta. Forse l'unica certezza è proprio Giancarlo Cugnata che come ha detto in una intervista che gli abbiamo fatto martedì scorso, dice io sono di Forza Italia dal primo giorno. E questo è vero, non ha mai cambiato, è sempre rimasto fedele ai suoi pensieri e questo gli è stato riconosciuto anche in questa occasione perché è stato nominato coordinatore provinciale. Allora c'era l'assessore Falcone, c'era e sentiamo lui e Giancarlo Cugnata, neo coordinatore provinciale di Forza Italia. Vediamo. L'assessore Falcone oggi è in provincia di Ragusa per il congresso provinciale di Forza Italia. Parliamo alla salute di questo partito, dopo tutta questa lunga storia di Forza Italia. Una storia di prestigio, una storia di grande valore, una tradizione ormai che rappresenta veramente non soltanto la storia di un partito, di un movimento, ma dell'Italia. Siamo qua oggi a celebrare il congresso provinciale a Ragusa, Ragusa, dove il partito magari in questi ultimi anni non ha giuito e non ha vissuto una propria presenza molto radicata, molto forte, ma proprio dobbiamo ripartire da questo territorio in cui Forza Italia può riprendere quota, Forza Italia ha tante donne, ha tanti uomini. Si parte dall'esperienza di Giancarlo Cugnata che sarà invece sostenuta inoltre da giovani, fresche esperienze di donne e di uomini capaci di mettersi in gioco. col nostro Movimento Azzurro, col Movimento di Silvio Berlusconi e col Movimento che oggi è capitanato da Antonio Tajani. Siamo convinti che possiamo fare bene e che riaffermeremo i nostri valori, la nostra partecipazione e soprattutto la nostra anche presenza in questo territorio per dare risposte concrete ai cittadini di Ragusa e siciliani. Quella fase che è durata un decennio, la cosiddetta crisi dei partiti, secondo lei è finita? Stiamo riuscendo da questo periodo dove l'antipolitica ha picconato le radici dei partiti e le loro forze? Guardi, molte volte si parla di crisi dei partiti. Noi siamo qua e il partito fondato dal presidente Silvio Berlusconi, che doveva essere un partito di plastica. Un partito che sarebbe scomparso con la sua di partita, invece oggi più che ieri, più che mai dimostra un suo radicamento, un suo entusiasmo, una sua vivacità, una sua effervescenza. La presenza di tanti militanti qua a Ragusa, a Catania, in Sicilia, a Roma, testimonia in maniera plastica che ci siamo e che alle prossime europee, alle prossime competizioni elettorali, dimostreremo di essere un partito centrale per la coalizione, ma soprattutto per la vita democratica del nostro paese Italia. Un'ultima domanda, però, le faccio scornare dentro in sala. Fra poco si celebrava il Congresso nazionale, insomma, i provinciali sono proprio elettrici a quel momento. Qual è il messaggio che dalla Sicilia porterete a Tajani e al Congresso nazionale? Il messaggio è quello della partecipazione, del coinvolgimento dei territori e della interpretazione dei bisogni di un meridione che non vuole essere succube, ma che si vuole porre in maniera da protagonista con il resto d'Italia. Noi vogliamo portare il messaggio del buon governo, soprattutto vogliamo portare un messaggio che raccoglie le esigenze del territorio per poterle poi tradurre in fatti concreti, in atti legislativi e in atti amministrativi. Da un lato l'agenda del territorio, dall'altro lato il buon governo che deve comprendere, interpretandole e attualizzandole le istanze e le aspettative della gente e del nostro territorio siciliano. Concluso il Congresso provinciale di Forza Italia a Ragusa, Giancarlo Cugnato ha confermato la guida del partito nel territorio, insomma, le sfide del futuro quali sono? È iniziata questa nuova fase di Forza Italia. Ieri abbiamo festeggiato i 30 anni a Roma, ci proiettiamo per i prossimi 30 anni e lo si fa soprattutto costruendo il partito in maniera plastica, nel senso di con i suoi organi eletti dalla base. C'è stata una campagna adesioni, oggi si sono svolti i congressi, tra poco finiranno nelle ultime province siciliane per poi proiettarci al voto nazionale del partito che sarà il 23 e 24 febbraio. Il lavoro svolto dopo la scomparsa del Presidente Berlusconi dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani è visibile a tutti e ha reso Forza Italia ancora centrale nella politica italiana, internazionale e soprattutto nel centro-destra. A Ragusa si è celebrato il Congresso, abbiamo eletto una nuova classe dirigente, giovane, fresca, che ha tanta voglia di lavorare e quindi siamo pronti per le prossime sfide che saranno sicuramente quelle europee, ma se il governo mantiene il passo di lavoro che sta svolgendo, anche quelle provinciali che finalmente ritroveremo come ente intermedio tra regioni e comuni, che per la provincia di Ragusa è stato un ente che ha portato grandissimi risultati e benessere per il territorio. In bocca al lupo, in bocca al lupo, perché come dicevamo, la politica deve fare tanti passi e il guaio è che la politica, senza offesa, si fa i cavoli suoi, perché purtroppo, io devo dire, molta gente fa politica per lo stipendio, per il posto da qualche parte, ma di fronte a certe cose, per esempio c'è ora Sergio Finringeli che dice, lo capite che c'è, il palino è aumentato del 200%, un tramezzino del 300%, l'acqua minerale, la bottiglietta dell'acqua minerale è aumentata del 283%, insomma vuol dire che se costava 30 centesimi, ora le costa 80, pare niente, ma sono il 263%, capite? Questo è il grande problema, una cosa che costava a 2 euro, ora le costa 5, è il 300%, non è possibile fare una cosa del genere e chi deve intervenire, deve intervenire alla politica, ma chi guadagna 10 mila euro al mese, ma cosa te ne può fregare di una bottiglietta che costa 10 centesimi o 50 o 70 centesimi? Uno che ha un orologio da 400 mila euro, ma che cazzo loro gli interessa? O uno che va a fare le vacanze e dorme nelle suite da 3 mila euro a notte? Purtroppo è questo il problema e qua bisogna fare le battaglie, lasciate stare tante altre cose, ma le battaglie sono qui, andare a ridimensionare chi prende troppo e aiutare chi prende troppo poco. A proposito di aiutare, c'è una lamentela forte che sta accadendo qualcosa, c'è stato l'altro incendio di uno chalet. Qui c'è qualcosa che non funziona, non è possibile pensare che si tratti di casi, perché poi ha preso fuoco la bombola, c'è stata l'esplosione, i vigili del fuoco sono stati impegnatissimi, ma qualcosa qua sta accadendo. Noi che ci sentiamo immuni da certe problematiche, bisogna intervenire, l'associazione balneare sta facendo il diavolo a 4, però non so, la polizia, so che il questore è bravo a intervenire, però queste cose devono avere un risultato, se no, vabbè. E l'altra cosa purtroppo, sempre per i vigili del fuoco, ma non ci sono notizie, ieri si è sparsa la voce. Dicono che c'è stato un extracomunitario che era ai canalotti, che si doveva fare la fotografia, ha fatto marci indietro e cascavo nell'acqua. Lo hanno cercato inutilmente fino a stasera. Non lo so, possibile mai? Il mare era calmo, se proprio davvero bisogna vedere cos'è successo. Bisogna vedere cos'è successo. E andiamo a parlare invece del comune di Ragusa. Prima di fare una piccola apertura politica, invece voglio farvi sentire questa intervista con l'assessore Giuffita, perché tocchiamo dei punti interessanti su quelli che sono i lavori nella città di Ragusa. Vediamo. In un contesto di incertezza e complessità abbiamo guardato oltre le difficoltà e lavorato per sostenere i nostri valori, tenendo fede alle nostre promesse. Siamo stati innovativi. Investendo nei processi di digitalizzazione, abbiamo aumentato la qualità del servizio e semplificato l'accesso alle nostre piattaforme digitali. Abbiamo saputo cogliere le opportunità del PNRR. Con l'adesione al progetto Samo Trace e l'avvio dei lavori del Green Tech Mediterranean Innovation Hub, supportiamo la transizione tecnologica della Sicilia. Abbiamo confermato il nostro impegno per un futuro più sostenibile, grazie agli accordi per le forniture di energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e alle iniziative per la tutela ambientale del nostro ecosistema. Abbiamo ottenuto risultati concreti, dimostrando di essere una realtà solida, affidabile e produttiva. Ma soprattutto siamo stati presenti sul territorio, vicino ai nostri clienti e ai nostri partner, attraverso momenti di incontro, condivisione e impegno fattivo. Con il vostro sostegno abbiamo costruito nuovi orizzonti. Adesso camminiamo insieme verso la banca del domani. Allora come vedete con noi c'è il studio, l'assessore Gianni Giuffrida, assessore ai LELPP, ai lavori pubblici di questa città e devo dire che come ha detto il sindaco è uno oberato di lavoro perché ce n'è tante cose da fare. Ma oggi lo abbiamo invitato per parlare di una cosa particolare. la vedete alle spalle sul chroma key. Ed è un bel posto. E' una cosa... Allora, assessore, questa è la vecchia stazione di Ginisi? Questa è la ex stazione di Ginisi. Di Ginisi che sarebbe quel tratto ferroviario che va da Donna Fugata a Vittoria, insomma a Comiso, diciamo, no? E che era questa? No, questa è la stazione come ora perché questa è attiva, diciamo dove si ferma il treno. Noi parliamo dell'ex scuola a Ginisi, non della stazione. Ah, ecco, ecco. Che sarebbe invece questa che vediamo qua. Perfetto, se no non riusciamo a capire. Allora, questa era l'ex scuola di Ginisi. E voi, ora si capisce, si capisce meglio. Che però era collegata perché Ginisi era un piccolo centro, diciamo. Una piccola, diciamo, un piccolo borgo. Che passava il treno, quindi era importante allora. E quindi cosa ci fate in questa scuola che viene restaurata attraverso i vari fondi europei? Allora, intanto la ringrazio, direttore, per l'invito e saluto agli spettatori. Questa è un immobile che ha abbandonato da diversi tempi quando andò in disuso la scuola. Grazie a un finanziamento PON-FESR di circa 600 mila euro, poco meno di 600 mila euro, è stato totalmente recuperato questo immobile, quindi PON-Legalità, è destinato al recupero dei soggetti che sono stati, appunto, oggetto di tratta, diciamo, lavoro nei campi, diciamo, persone che hanno subito nella loro vita dei problemi e quindi vengono accolti in questi posti per essere recuperati e reinseriti nella vita normale. Considerate che l'immobile è totalmente ristrutturato, quindi è stato demolito i tramezzi per ottenere delle camere, dove poter ospitare 12 persone, ci sono luoghi comuni, spazi comuni, c'è una cucina, quindi è un'unità totalmente indipendente. Ribadisco e dico sempre, luoghi abbandonati che invece ora rinascono, danno possibilità, danno aggregazione sociale, danno possibilità di lavoro, danno un input a un'area che era totalmente abbandonata prima. E questo è chiaro, una cosa è ristrutturare, una cosa è poi farla funzionare. Assolutamente, è già stato fatto un bando, dove già c'è una, a tutti gli effetti, delle cooperative sociali che gestiranno e già nel momento dell'inaugurazione saranno presenti, proprio perché, e questo è un altro punto importante, l'opera pubblica, qualunque immobile è ristrutturato, il giorno dopo deve già avere una sua attività, perché si corre il rischio di essere poi vandalizzato, oppure di essere abbandonato e quindi un luogo non riscaldato, non utilizzato, risente sempre di problemi normali. Ma Assessore, questa esigenza… Scusami, però ci tengo, ad esempio uno, mi ricordo che il primo intervento che poi abbiamo inaugurato, di completamento, perché aveva fatto quasi tutto l'aggiunta precedente, l'aggiunta, mi riferisco a 5 anni fa, l'aggiunta Pichito fu lo Skate Park. Lo Skate Park, vi ricordate in via Colaiani, è l'esempio, l'abbiamo completato noi, ma è l'esempio emblematico di una struttura pubblica come funziona, completata e il giorno dopo già utilizzata, ed è oggi un punto di ritrovo di centinaia di ragazzi, e vengono anche da tutta la provincia per quel tipo di… Certo, gli appassionati di pattini, lei parla difficile, scherzo. No, no, grazie. Però è uno sport molto praticato, assolutamente. Come il paddle, ormai sta diventando… Il paddle, sì, sì. Stanno diventando… Solo che il paddle è semplice da fare, questo è un po' più complesso, un po' più complesso sia esercitarlo che avere la struttura adeguata. Tutti noi un po' di ginocchia ce l'abbiamo lasciate sulla strada. Stavo dicendo, ma fare questa cosa esce da un'esigenza, voi avete avuto delle richieste, quanta gente c'è che… Ma le devo dire, le esigenze vengono continuamente monitorate sia sempre dalle comunità sociali che dai nostri servizi sociali, ma soprattutto è un progetto in cui un grande merito ha avuto anche la prefettura. Il prefetto è molto sensibile a questo tipo di opere, quindi ha coordinato affinché questa attività potesse essere veramente realizzata in tempi brevi e per uno scopo ben preciso che era appunto quello del capovato. Quindi un investimento di circa 600 mila euro? 600 mila euro totalmente pon legalità, proprio che già il titolo del finanziamento la dice tutta. Che è proprio questa finalità di andare a dare una mano a chi ha bisogno. Fini sociali. E quindi quando lo inauguriamo questo? Questo lo inauguriamo meccolo di mattina alle 9, e già di tutto punto, alle 9 del mattino è internamente totalmente arredato, quindi è già la cooperativa che lo gestirà ha i mobili, ha tutto il necessario per poter condurre immediatamente l'attività per cui esso è stato realizzato. Io sono sicuro che un bel posto si vede così, potevamo fare un albergo rurale. Non è immaginibile. Consideri che infissi nuovi, cappotto nuovo, cioè tutto è di nuova concezione totalmente. Che poi, diciamo, torniamo un attimo alla stazione, tanto per dire, perché quello poi era un altro progetto, qualcuno aveva pensato, di fare una diramazione dalla stazione, arrivare fino a Marina di Ravusa. Ma non era male come idea. Insomma, un po' complessa. Ma un po' difficile, però non era male come idea. E poi guardate che esplendito questo. Pertanto vediamo se riusciamo a realizzare già il primo concetto di metropolitana di suo ufficio a Ragusa, già sarebbe un buon inizio per poter cambiare totalmente il modo con cui spostasse Ragusa. Però dico che è un progetto molto amministrativo. Io su questo non mi pronuncio. Però spero che poi si veda l'attività progettuale che è stata fatta in questi anni. Il mio problema è che non sono più giovane. E quindi queste cose mi piacebbe vederle. Andate in gara. Le prime tre fermate sono in gara. Sono in gara. Il 22 febbraio. Ma sono in gara cosa? La realizzazione con i muri. Delle stazioni, dei pietri. Il problema è farlo funzionare. Non è farlo. Allora, a proposito però di questo, che è una cosa di cui io senza dubbio dico, beh, non mi piace, però se si vuole che cosa faccio. Dico di no. No, anzi vorrei essere il primo passeggero, come all'aeroporto di Comus ho fatto il primo volo. Ho visto che vanno avanti questi lavori di quello che dovrebbe essere, quello che abbiamo chiamato lo scalomerci, ma che è stato trasformato in, come lo chiameremo? Ma io dico che è un'opera di interconnessione importantissima della città, perché noi ci ricordiamo lo scalomerci, era un luogo totalmente abbandonato anche questo. circa 17 mila metri quadrati, che è la parte che noi abbiamo uscito, più i fabbricati che allo stato attuale non sono ancora oggetto di intervento, ma non lo saranno. Nel progetto totale poi saranno destinati a un'area mercatale con degli spazi chiusi. Ma la parte che stiamo realizzando noi in questo momento, sono stati fatti due progetti, o per lo meno due apparti per meglio dire. La parte dei cambiamenti climatici, che è la parte a giardino che noi vediamo sulla destra, quella è già stata completata, stiamo solo aspettando gli arredi per poterla innaugurare. La parte invece a sinistra, che è la vera e propria stazione. Del posteggio Pullman, perché quella lì è la copertura. Quella è la copertura degli autobus. Noi là avremo un punto di collegamento dalla parte di via Carducci, quindi parliamo dello Scolomecci, di via Archimede da sinistra, con la strada che già abbiamo realizzato, con lo sottopasso che sta realizzando ed è in gara RFI, collegheremo Piazza del Popolo, a destra sarà ricollegata a via Carducci. Quindi se voi ci pensate, questo che era un punto di divisione, perché io da Piazza del Popolo non potevo arrivare allo Scolomecci, non potevo arrivare in via Archimede, ora da questo mi permette di avere tutti questi quattro quartieri collegati tra di loro. E già solo questo fa del progetto un'opera importantissima per la città, cambierà totalmente. Lei non si ricorda, ma qualcuno aveva pensato a un famoso cavalcavia, ai teggi di meno bocchieri. Pensa un po'. Ritornando al progetto, se voi vedete c'è quella parte di tettoia che sarà il ricovero degli autobus, ma non le fermate degli autobus, perché ci saranno 12 stalli, l'autobus arriva, la sala d'attesa che è sulla sinistra di quella tettoia degli autobus, io comodamente attenderò l'autobus che mi sarà segnalato il numero dello stallo dove andarlo a prendere, quindi senza bagnarmi, senza dover… Questa non l'ho capita. A sinistra, da quella tettoia grigia a sinistra, dove c'è quel verde, c'è la sala d'attesa, che è direttamente collegata alla copertura degli autobus, quindi io comodamente seduto nella sala d'attesa posso andare a prendere il mio autobus, vedete già qua vengono riprodotti gli autobus, senza dovermi bagnare se piove, per esempio. Però scusa, torniamo a quella prima, tanto per capire… Eh, quella è a sinistra, voi vedete… No, no, però, ma quella strada di sopra cos'è la… Quella è lo scalomerci, quella che scende, quella verrà allargata, lei la vede ora più stretta, ma verrà allargata, dove ci sarà… Eh, no, c'ho solo una piccola preoccupazione. Davanti alla chiesa, la strada sembra piccola. No, passo… Passano due pullman, sicuramente. È più di sette metri, quindi lei consideri che… No, non passate due pullman, perché uno entra e uno… Consideri che le corsie sono due metri e mezzo il valore minimo, qui saranno oltre tre metri e cinquanta, quindi a voglia. Beh, so, è chiaro che si tratta di una… Oh, è un intervento meraviglioso. Consideri che poi sempre sulla destra di quelle tettoie dove saranno ricoverati gli autobus ci sarà un corpo ristorante e un bar, dove il terrazzo di copertura del ristorante sarà allo stesso livello di via scalomerci. Il collegamento con lo scalomerci sarà anche fatto sopra la stazione passeggeri con un giardino, quindi è un progetto, una progettualità… Quella strada di sopra, no, attenzione, quella è quella famosa strada che scende da via Carducci… Perfetto. No, da via… Sì, e poi va… E poi si ricollega di nuovo sotto il fondo in via Carducci. Sì, sì, non riuscivo a collegarla. Ora… Quindi, vede, è un… avremo finalmente una stazione degli autobus per come viene concepita nelle normali città d'Italia, comoda, interconnessa al sistema ferroviario, quindi di odamodi che arrivo con… Se funzionasse la comune. Ma noi dobbiamo sempre pensare che il sistema trasporti deve funzionare e la logica e l'idea nostra deve essere quella di mettere in campo tutte le azioni necessarie per farlo funzionare. Se noi già partiamo dicendo che se funzionasse non riusciremo mai a cambiare cose. Questo è un punto fondamentale. Noi però, assessore, con il tempo abbiamo acquisito una certa esperienza. Lo capisco. Per cui tante cose poi alla fine non è che riescono. Comunque, il progetto non c'è dubbio… Pensare sempre al bene. Sì, pensare sempre al bene. Volevo fare l'ultima battuta. Fammi vedere la foto, regia. Leviamo l'assessore un attimo. E quindi questa qui sarebbe praticamente come se l'avessimo fatta la fotografia da Palazzo Tumino. Sì, da Palazzo Tumino. Consideri che di fronte… Quindi Palazzo Tumino? Siamo saliti là? Palazzo Tumino, Palazzo Tumino, sì. È come se fossimo saliti lì. Il Palazzo Tumino spero che anche quello con le progettualità, voi lo sapete, che ci siamo già spesi per cercare di avviare delle interlocuzioni anche con il Ministero affinché che il Palazzo Tumino… La nostra idea è quella di… Comunque lì non può stare così. Una cittadella giudiziaria sarebbe perfetta. Ma qualunque cosa non si può stare. Collegata alla stazione degli autobus, collegata ai treni. Immagino che tutti vengano al Palazzo senza prendere la macchina. C'è proprio lì. Ma io mi chiedo questo signor Tumino, no? Ma che cosa ci voleva fare? Non lo so, ma questo nasce negli anni 90, probabilmente si pensava di portare altri uffici pubblici lì, poi il periodo di contrazione probabilmente sarà stato… Io le posso dire, caro Assessore, che ce ne siamo accorti di colpo, non ce ne siamo accorti. In un certo punto la Piazza Libertà ha visto… Anche perché i vari piani poi si vedono man mano che crescono. Va bene, abbiamo fatto 15 minuti, Assessore, quindi dobbiamo chiudere obbligatoriamente. Vedremo questa stazione, questa scuola rifatta a Genesi e poi quando lei vuole ci andiamo a fare una passeggiata nello Scalo Mecci e vediamo a che punto siamo. In questo momento abbiamo tre opere, Scalo Mecci, Teatro e Il lungomane Bisani. La prossima settimana faremo queste cose. Mi piacciono, mi piacciono, anche perché, come le dicevo, il teatro solo dieci anni e lo aspettiamo. Noi ha due anni che ci lavoriamo, un'opera difficilissima da realizzare. Grazie allora all'Assessore Giuffrida, andiamo avanti con il nostro telegiornale. Buonasera. Grazie a tutti. Pietro, Giorgio, la merenda C'è un formaggio che col suo cuore dolce piace tanto ai bambini Un formaggio che col suo animo raffinato rende speciale ogni occasione Un formaggio che col suo carattere un po' piccante piace ai nostri nonni Ragusano DOP, oggi come ieri, mette d'accordo tutti CER, compagnia per l'energia rinnovabile a Ragusa nella zona industriale Il benessere ambientale per noi è sinonimo di benessere sociale Perché abbiamo a cuore la salute del pianeta La CER, nel suo sito industriale di Ragusa, si avvale delle migliori tecnologie per produrre energia rinnovabile Gli impianti progettati e realizzati, grazie ai costanti investimenti nel campo della ricerca Garantiscono il raggiungimento degli obiettivi più attuali Come lavorare in sicurezza, produrre a basso costo e risparmiare energia CER è il leader in Sicilia nel fornire energie rinnovabili Per migliorare il mondo in cui viviamo Va bene, complimenti per questi lavori Poi lì bisognerà andare a vedere su questo posteggio per i bus Io ho qualche dubbio, ma probabilmente sbaglio E poi sono contento che possa essere utilizzabile Perché non c'è dubbio, quando uno arriva alla stazione di pulma di Ragusa Rispettando coloro che lo hanno fatto Mi ricordo il sindaco Solarino che ha trovato un po' di spazi Però non è adeguato una città come Ragusa Torniamo un attimo al Consiglio Comunale Perché oggi c'era questa attesa Che faceva riferimento ad alcune tensioni che erano scoppiate Prima con il consigliere Jurato Vi ricordate quando ha richiamato il consigliere Caruso Dicendogli basta di fare tutti questi complimenti ad Abbate Noi con Abbate non vogliamo avere nulla a che fare E lo ha detto chiaramente E lì ci sono stati dei problemi Perché come si chiama Abbate Ha detto, ah ma io vi faccio avere i soldi Allora che fa, non li volete Sarebbe questo il caso Se non li volete ditemelo che li mandiamo da un'altra parte Ma noi li vogliamo perché servono per fare tanti lavori E poi cosa ha fatto Jurato Che avevo invitato in studio per parlare Ma poi lui non ha voluto parlare Su questa vicenda ha detto Vabbè, ammugiamola, ammugiamola E questo non è stata una bella cosa Perché Ragusa Prossima doveva dare dei significati diversi Tra l'altro c'è stato anche un intervento di Elio Accardi Un altro dei guru di Ragusa Prossima Che ha tenuto a precisare che anche il consigliere Zagami Che voi vedete in questo momento Che parla e sta facendo il suo intervento in consiglio comunale Che è durato circa tre minuti Ma oggi non lo mandiamo in onda Perché? Perché abbiamo intenzione di ospitarlo in studio Nei prossimi giorni Abbiamo un'intervista Ora vediamo Abbiamo fatto un'intervista Ma era troppo lunga Per entrare in questo telegiornale Quindi vedremo se domani o dopo domani Allora domani dovremmo avere Qua l'assessore Giorgio Massari Per parlare di economia Ma chiaramente anche di Ragusa Prossima E quindi rinviamo Zagami a dopo E quindi questo è un altro punto Di frizione Perché come dice Cesare Prucchino Se queste sono le maggioranze Se ora per esempio Prenderà a corpo una realtà della democrazia cristiana Con più numeri Quindi pensate se tre o quattro Diventano della democrazia cristiana Perché dico questo? Perché vedete Zagami lo ha detto Ha comunque mandato un comunicato stampa In cui dice In verità noi con Ragusa Prossima Non abbiamo mai avuto molto a che fare Ci siamo ritrovati Perché noi siamo figli dell'Udc E quindi sono figli della democrazia cristiana Poi siccome l'Udc si era perso in quei periodi Abbiamo trovato uno spazio Una ospitalità in Ragusa Prossima E quindi siamo entrati in Ragusa Prossima Ma in verità con Ragusa Prossima Non abbiamo molto da spartere Accardi ha detto che non c'hanno niente E che spartere? Zagami deve trovare una posizione Potrebbe essere con azione Dicono Ma in verità Ripeto Udc Udc e poi i suoi referenti Che possono essere Littorosso e compagnia bella Stanno guardando tutti Alla democrazia cristiana Di Dottor Cuffaro Che è sempre stata lì E che vedete Crescerà sempre di più Chiudiamo quindi questo telegiornale Lanciando due servizi Uno che riguarda Il porto di Pozzallo Perché ci sono dei lavori Finalmente di ristrutturazione E poi Gianni Papa con lo sport Però voglio farvi vedere Un secondo solo Un flash mob Una fotografia E non credo che possa Che abbia bisogno Di avere delle spiegazioni E un flash mob Che si è fatto a Marina di Ragusa Stop alla guerra Non credo che sia sufficiente 4, 5, 10, 20 persone Che fanno questo Non è sufficiente Però vedete Il problema è riuscire a capire Bene quello che sta accadendo E cercare di capire bene Come si possono fare I passi per arrivare Ad una soluzione concordata Se da una parte Non c'è la disponibilità E dall'altra neanche A fare una pace Con due stati Che secondo me È l'unica soluzione E anche chi fa parte Dell'altro stato Deve smettere Di fare guerra Se non è così Chissà quanto durerà ancora Questa guerra Due popoli E due stati Sembra la soluzione migliore Poi che si possono dare Le colpe a Netanyahu Che si possono dare L'olocausto Tutto quello che volete voi Ma è chiaro Che un popolo Non può avere La preoccupazione Ogni 5 minuti Che qualcuno ti attacca E un altro popolo Deve avere la libertà Di essere un popolo Con una patria Gianni Papa Anzi prima Giovanna Canizzara E poi Gianni Papa Ciao a tutti Giovedì 1 febbraio Nella sede Del porto di Pozzallo Verranno consegnati Alla ditta giudicataria Dell'Alpalto L'Aereti Geraci Salvatore SRL I lavori di manutenzione Straordinaria Che prevedono La ristrutturazione Di tutto l'impianto Elettrico E parte Degli impianti Tecnologici Il rifacimento Di tutte le torri Faro E sarà eseguito Anche il dragaggio Del porto piccolo Gli interventi Che ammontano 3 milioni e mezzo Di euro Saranno possibili Grazie alle risorse Del fondo POC Il programma operativo Complementare E dovranno essere Ultimati Entro quattro mesi Ricordiamo Che nel novembre Del 2021 Il maltempo E le forti raffiche Di vento Avevano causato Il crollo Di una delle torri Faro Del porto Fu allora Che il sindaco Roberta Matuna Chiesa alla regione Di intervenire Per mettere in sicura Il salario portuale E gli impianti Ad essa annessa Ma un contenzioso Amministrativo Fra le prime Due società Aveva portata Ad un rallentamento Dell'iter Di inizio Dei lavori In quell'occasione Era venuto A Pozzallo Anche l'assessore Regionale Alle infrastrutture Marco Falcone Per una verifica Dei danni Oggi Alla vigilia Dell'inizio Dei lavori Il sindaco A Matuna Rivolge Un ringraziamento A tutti i professionisti Che hanno svolto Un ruolo importante In questo percorso Che consentirà Di rimettere A nuovo L'impiantistica A garanzia Dei servizi portuali Il porto Di Pozzallo È un porto Nazionale E questo Gli conferisce Un ruolo importante Nella rete portuale Della penisola Da anni È stato gestito Dalla regione Ma nell'agosto Del 2022 È passato Allo Stato In quanto Inserito Nell'autorità Portuale Della Sicilia Orientale E sarà Quest'ultimo Quindi Cioè Lo Stato Ad impegnare Risorse economiche Nella struttura Portuale Pozzallese Che negli ultimi anni È cresciuta Antattissimo Nella movimentazione Di merci E passeggeri Soprattutto Da E per Malta Ora Dice a Matuna Tendiamo Di conoscere Quali interventi Sono stati Eseguiti Dall'autorità Di sistema Per l'utilizzo Delle somme Introitate Come tasse Portuali Nel 2023 Avendo Questa Assunto L'impegno Di spenderne Almeno Il 70% Nel porto Di Pozzallo Solita chiacchierata Di commento Del lunedì Allora Diciamo Che le due principali squadre ragusane Di calcio Hanno giocate Entrambe Il sabato Il protocuse Al quale Si riferiscono Queste immagini Ha anticipato La gara Con la capolista Vittorio Purtroppo L'Exenal C'ha un fondo Bellissimo Che ha Ma c'ha anche I problemi Quindi è stata Una gara Giocata Porte chiuse 0-0 Bella difesa Del pro ragusane Nel primo tempo Poi gran punizione Per l'1-0 Dei vittoriesi E poi Espulso il giocatore Ragusa Con molte Lamentere Da parte Della dirigenza Ragusane E poi il vittorio Ha concluso Con altri due gol Dobbiamo dire Che Il vittorio Continua Ad essere in testa La classifica Credo con due punti Di vantaggio Ci auguriamo Che possa L'anno prossimo Ritornare In quell'eccellenza Che è proprio Il minimo minimo Dei campionati Che si confanno A una squadra Con quella tradizionale Mentre il pro ragusa Non solo è abbondantemente Salvo da tempo Mai memorabile Ma sta disputando Quella che sicuramente Intanto vedete Il gol Vedete il vittorio Nel tradizionale Maglio è bianco rossa Quindi complimenti Al vittorio Ma bravo Anche il pro ragusa Che ha perso Ma probabilmente Anzi Che senza probabilmente Che avrebbe meritato Una sconfitta In termini Più onorevoli Comunque Bella gara Peccato Non sia stato possibile Alla tifoseria Alzi Alle tifoserie Venire a vederla Passiamo Alla vittoria Del ragusa Il ragusa Ha giocato Anticipato Contro Una squadra napoletana Al Casale Nuovo Che veniva da un periodo Sicuramente Ottimo Un periodo In cui il Casale Nuovo Si è comportato Molto bene Aveva anche I giocatori Possiamo passare Le immagini del ragusa Aveva anche se non vado errato C'era Reginaldo Che ricorderete tutti Ha giocato Anche in A Bene è stata una partita Nella quale il ragusa È andato in vantaggio Si è vista raggiungere Da un rigore Che in realtà Credo abbiamo visto Pochissimi Se non l'arbitro E poi nel secondo tempo Nella seconda parte Della ripresa Ha messo a segno Una rete Bellissima Con questo 2-1 Ragusa ha ottenuto Una cosa E mi devo complimentare Davvero Con la dirigenza Questo è stato Una partita fondamentale Perché ha segnato Ufficialmente Possiamo dire Al di là Ma neanche con i cataclismi La rinascita Ragusa Come società calcistica L'avere Il raggiungimento Non solo Della salvezza Che questo è importante Ma non è solo Una salvezza Tranquita Una salvezza raggiunta Dimostrando di essere Una squadra valida In grado Di poter affrontare Chiunque Quindi diciamo Che è un momento Di svolta Questo successo È stato Il momento vitale Il momento fondamentale Di questo Ecco Credo che questa sia L'opinione Il momento del rigore È stato proprio Il senso Del lavoro Di questa solidità Che ha portato Prima alla vittoria Nel campionato di eccellenza Imbattuti Proprio la vittoria Anche in Coppa Sicilia E poi La salvezza così sofferta Così complicata L'anno scorso E invece quest'anno Questo campionato Che sta Veramente Dimostrandosi Superiore Credo anche Le aspettative migliori È un ragusa Che è ancora A margine di crescita Che è ancora Molte partite Sulla carta Abbastanza facili Da giocare in casa E quindi penso Che potremmo vedere Ancora altre Potremmo avere ancora Grandi soddisfazioni Devo dire Ancora una volta Complimenti alla dirigenza Perché ieri Ragusa ha dimostrato Non solo di essere Meritevole del posto Che è il sesto settimo In classico Ma di potere anche cresce Bravi a tutti Giocatori Allenatori Dirigenza E pubblico Passiamo invece Alla palla canestro Giocavano tutte e due Fuori le squadre ragusane Bene Dobbiamo dire Che la La Vintus Del Dicianni Recubito Ha Ha realizzato Un'impresa straordinaria È andato a vincere Il Reggio Calabria Che come me Ci ha vissuto Negli anni della Viola Può sapere Cosa voglia ancora dire Anche se non è più Come una volta La palla canestra Il Reggio Calabria Un successo Importantissimo In chiave Della seconda fase Un successo Venuto nel finale Venuto di misura Anche perché gli avversari Sono fortissimo Ma un successo Che veramente Vorrà dire tanto Complimenti a questi ragazzi A prova Avevo dimenticato di dire Che il Reggio Calcio Giocherà dopodomani Mercoledì A Caricattì Dicevamo ancora Della Una grande prova Una prova Che lascia immaginare Una seconda fase Di campionato Con tanto pubblico Tanta passione E le possibilità Di centrare Un obiettivo Che poteva anche Essere Nelle idee Della vigilia Ma che sicuramente È complicato Perché saranno In tanti A volere Provare A raggiungere La B Dell'eccellenza In cui siamo stati Fino all'anno scorso Comunque una grande prova In cui pur avendo Tre giocatori fondamentali Fuori per i cinque falle I ragazzi Ragusani I ragazzi Di Gianni Di Gianni Guglietti Hanno davvero Centrato Un'incresa Straordinaria Che avrà Risultanze Sicuramente Importantissime Sul futuro Del campionato E chiudiamo Parlando Della Passalacqua La passalacqua Non ce l'ha fatta Beh è stata davvero Lì lì Per farcela Perché È arrivata Al supplementare È una partita Contro la Quarto La quinta del campionato In cui ancora una volta La passalacqua Ha dovuto fare a meno Della sua superlunga Della giocatrice cieca Della Cunzova E questo Della Cunzova E questo naturalmente Fa sì che si è trovata Una giocatrice In meno Nei ricambi E soprattutto Una specie di torre Nei rimbalzi Eppure Nonostante questo La squadra Dell'Inolardo Si è battuta Alla pari Dal principio Alla fine Per due tempi Ha chiuso Il secondo tempo In vantaggio Cioè ha recuperato I due punti di svantaggio Del primo tempo Nel secondo tempo È stato in vantaggio Nel terzo Erano parità Quindi eravamo lì Poi è andata sotto Nel quarto tempo Ma è riuscita Proprio in chiusura Con una bomba Della Capitano A centrare Di lavoro Preafico A centrare I supplementari Nei supplementari È andata pure avanti Poi Le versate Si sono staccate Sono arrivate A sei punti Di vantaggio Ragusa ha cercato Di recuperare Poi alla fine Non ce l'ha fatto più Anche perché Veramente erano stanche Quattro punti Solo hanno diviso Le due squadre Onestamente Non cambia moltissimo Sotto il profilo Della Della classifica Avrebbe sicuramente Cambiato in meglio La classifica Comunque Soprattutto Il morale In caso di risultato Positivo Siamo lì Adesso Ci attende Stendono Le final 4 Di Coppa Italia Nella quale La passa l'acqua Credo Se non vaderà Affronterà Nella gara decisiva Per andare in finale Schia Ancora una volta Si rinnova Questo duello Siamo lì La passa l'acqua Quest'anno Ha perso Forse qualche partita In più Ma le ha perse Sempre lì E' stata sempre lì Quella di ieri E' stato proprio L'esempio più eclatante Di questo Quindi Non si può mai dire La speranza Che possa recuperare Anche l'atleta Che le manca E che possa quindi Presentarsi alla pari In un impegno Difficilissimo Per il resto Il campionato È quello che è Bisogna È tutto rimandato Allo stato attuale Ai playoff Vedremo Certo che questa squadra È partita Con qualche difficoltà Pian piano Si sta riprendendo E Ghieri Sinceramente È stata vicinissima A sfiorare l'impresa Detto questo Non ho da dire Nient'altro Di particolare Sul momento Devo dire Ancora Hanno vinto Ancora i ragazzi Della Pallamano Che dopo Un inizio davvero Diciamo difficile Per usare un termine calmo Si stanno riprendendo Molto bene E quindi La Pallamano Che sta facendo Un grandissimo Lavoro giovane Siamo lì E' un momento interessante Soprattutto per quanto riguarda Il Degusa Calcio E la Virtus Il Degusa si è salvato La Passalacqua Sta battendosi Per cercare di Ritrovare il suo posto Fra le prime tre o quattro Grandi del torneo Non sarà facile Ma non bisogna disperare Credo Che le potenziali Ci sia una squadra È forte Ben allenata E prima o poi Dovrà girare Nel verso giusto Per il momento Non ho altro da dirvi Vi saluto E domani Se non vado errato Parleremo di Ancora di sport Ma questa volta Sarà uno sport Completamente diverso Vi saluto Grazie a tutti I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa È la storia delle nostre famiglie È la storia della nostra terra La Sicilia Osservatorio sportivo È offerto da Eco Green Risparmia sulle bollette di casa Con le offerte del Mercato Libero Con le offerte del Mercato Libero La Sicilia Benvenuti alla puntata numero 17 di Osservatorio Sportivo come al solito ci occuperemo anche con l'ausilio delle immagini di quello che è successo nello scorso fine settimana agonistica come mi sembra di dire che per quanto riguarda il calcio la giornata di domenica è stata una super domenica per la Profavara che ha spugnato lo stadio di Caltanissetta vincendo contro la Nissa e adesso i punti di stacco tra le due squadre sono soltanto di tre punti e quindi tutto è tornato all'insegna del punto interrogativo è stata una vera e propria impresa del popolo favarese che ha seguito in massa la squadra seguiremo poi sia il servizio sia anche i festeggiamenti del dopo partita ma ieri è stata anche la giornata che ha fatto tornare il sorriso in casa Fortitudo ma quanta paura per battere la Juve Cremona pensate un po' a un certo punto la formazione di Calvani era avanti di 30 punti al terzo quarto gli ospiti della Juve Cremona che sono comunque la quarta forza del campionato si sono portati a meno tre e con il possesso palla poi alla fine la Fortitudo ha vinto di sette ne parliamo subito con il primo ospite che è il direttore sportivo della Fortitudo non cala grigento Cristian Maier benvenuto Cristian buonasera allora dicevamo un atteggiamento spiegabile perché per 33-34 minuti la Fortitudo è stata perfetta non si vedeva giocare così bene da un po' di tempo poi 5 minuti di blackout che stavano costando la partita sì sì no il blackout credo che a livello offensivo sia cominciato un po' prima già tre minuti dalla fine del terzo quarto perché abbiamo si sono messi un po' a zona hanno messo i due lunghi e noi non abbiamo più preso non abbiamo più dominato con Polacovic l'area e abbiamo rallentato di molto gioco cioè ci hanno rallentato tantissimo il ritmo noi abbiamo smesso di aggredire la partita il canestro abbiamo cominciato a passare la palla quella cosiddetta melina e abbiamo perso il ritmo pian piano questi sono rientrati abbiamo perso fiducia sono venuti fuori i fantasmi della paura di perdere che quando non si vince sono dietro l'angolo e i momenti facevamo arachiri insomma abbiamo visto alcuni atleti essere tornati comunque se non al 100% la forma fisica si ci si avvicinano in particolare Ambrosin ieri migliore realizzatore ma anche Polacovic rispetto alla gara con Vigevano forse perché con Vigevano aveva sempre due o tre persone addosso ieri un po' era stato si marcava uomo e Polacovic ieri ha fatto il suo sì no io personalmente credo che questa squadra mentalmente sia ancora in difficoltà con Vigevano non siamo riusciti a fare canestro finché anche loro non facevano canestro eravamo in partita poi appena avevamo fatto canestro ci siamo scoraggiati perché non abbiamo mai fatto canestro tutta la partita quindi e questo ha contribuito a quella partita diciamo mediocre che è venuta fuori ieri i fantasmi sono venuti fuori a 5 minuti alla fine senti l'ho scritto anche stamattina sul giornale quattro partite giocate a mezzogiorno tra l'anno scorso e quest'anno sono arrivate altrettante vittorie tra l'altro con le entrambe le squadre sia Juve Cremona che Canduno guarda caso non un pensierino a fare domandare la federazione giocare all'ora di pranzo all'unico pensiero che sovviene in questo momento non è tanto il fatto scaramantico della cosa è il fatto che comunque non c'erano tante persone e questo condiziona una bella giornata ha fatto però tanto ieri c'era una giornata se basta una bella giornata per evitare di andare a tifare la squadra che diciamo non è che era l'ultimo cosa però poco ci manca e insomma significa che la passione c'è fino a un certo punto Rino no dico i fantasmi sono andati via la scaramanzia dico non ci sta ecco nell'ambito sportivo ecco questo dai tifosi mi ha anticipato Cristian e non è la bella giornata di gennaio che può tenere fuori quindi adesso comincia una nuova fase magari è l'occasione per provare a spiegare che cosa succede adesso in che modo la fortitudine andrà alla salvezza ecco quindi i fantasmi sono arrivati ma sono andati via in tempo fortunatamente Ambrosin miglior realizzatore la scaramanzia la mettiamo davanti gli americani tutto sommato hanno giocato bene per Sì Sì faccio un esempio se noi dovessimo arrivare come siamo in questo momento decimi giocheremo con la undicesima dodicesima prima seconda e terza dell'altro girone in casa e con la nona l'ottava la settima la sesta la quinta la quarta fuori casa e alla fine si sommano i punti cioè dipende da quanti punti facciamo e ogni girone se tu arrivi tra le prime otto vai playoff se arrivi nona decima undicesima fai play out se arrivi ultima retrocedi direttamente i play out funzionano che ti porti i punti che ti sei fatto nel tuo girone questa è la parte quella secondo me non proprio estremamente corretta che di questo però è così questo cervellotico ma è un po' cervellotico ci vuole molta calma per capirlo anche perché ogni girone è diverso quindi o da quest'altro o dall'altra parte ci sono squadre più forti a cui affrontare fai meno punti o più punti cioè non è estremamente veritiero lì è il caso di partire 0-0 fai un girone tutti contro tutti e poi di sei squadre quattro retrocedono e due si salvano sì alla fine è quello il pericolo maggiore vincere a Latina cosa significherebbe Cristiano al di là del fatto di poter chiudere anche al forse noni visto che sempre sia Luis la Luis che comunque sta vivendo un buon momento gioca in casa con Treviglio che secondo me non sta vivendo un grande momento per cui è visto un po' gli arbitraggi che ha avuto la Luis nel girone di ritorno secondo me la Luis vince in casa con Treviglio noi dobbiamo vincere perché ci portiamo due punti in più per quello che hai detto prima per il campionato è fondamentale portarsi via dei punti in questo momento che gara ti aspetti a Latina mi auguro che facciamo una partita con un po' più di convinzione un po' meno paura perché ormai non abbiamo più niente da perdere sappiamo più o meno quello che può essere quello che è il nostro destino in questo momento e non abbiamo niente da perdere io spero che la squadra si scrolli di dosso questi timori e che giochi come a Sprazi quest'anno purtroppo sulla Sprazi ti ha fatto vedere mai come ora forse c'è bisogno ecco del Palamoncada pieno lo ripetiamo lo ripetiamo da anni ma il Palamoncada vengono solo se c'è la finale o la semifinale purtroppo è la triste storia di Agrigento penso non solo nella Palacanese lo confermo non c'è cultura sportiva mi dispiace dirlo ma non c'è questa grande cultura no no è la verità ma io fortunatamente sfortunatamente non sono agrigentino quindi non ho motivi di campanilismo penso di dire la verità che mi sembra abbastanza palese su tutti c'è sempre un motivo quando le cose non vanno bene c'è sempre un motivo per criticare o per non fare una cosa quindi questo è un po' un po' gli etmotivi di tutto quello che succede ad Agrigento senti cosa te ne è sembrato della prima dell'ultima arrivata a Agustin Fabi anche perché la società crede nella salvezza e diciamo ha fatto un altro sacrificio Agustin è stato un ottimo giocatore della categoria ha giocato quasi sempre per vincere i campionati andando avanti con l'età ha cambiato un po' il ruolo e quindi ci aspettiamo da lui esperienza ci ha allungato le rotazioni che per noi sono importanti e ha aggiunto è stato un po' il ruolo